buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale scusate per il fatto che questa settimana non c'è stato un video però purtroppo sono stata veramente impegnata ho avuto un esame e quindi non sono riuscita fisicamente a girarlo mi dispiace ma tenetevi forte perché penso di pubblicare almeno un video in più la prossima settimana ma il video di oggi è un qualcosa di molto semplice, molto easy ma un unboxing! dovrebbe essere un pacco molto emozionante quindi non vedo l'ora di mostrare anche a voi il contenuto e spero sia quello che penso perché altrimenti ho fatto una figuraccia ma direi di aprirlo i pacchi di SDA sono sempre giganti oh yes e sono tre libri e sono tutti stati incelofanati benissimo abbiamo questo potrebbe essere un perfetto unboxing di Halloween abbiamo la casa per ragazzi speciali di Miss Peregrine nella nuova edizione cartonato e aspetta si toglie questo si rimuove perché questa è la parte del film e sotto è questo il classico cartonato penso qua dalla prima edizione sì poi abbiamo ho lo city quindi il secondo libro e togliamoci sempre la cosettina del film tadaaa eccolo qui anche questo penso sotto non ho di realtà mai visto la prima edizione infatti è rosso ed è il secondo volume appunto della serie questo è enorme ed è la biblioteca delle anime l'ultimo libro della serie di Ransom Riggs e quindi sì della serie dei bambini dei ragazzi speciali di Miss Peregrine anche qui tolgo la bandella in più ecco la copertina questo sotto è wow questo sotto ha tutte le scritte di quelli che penso siano siano i ragazzi speciali insomma e all'interno ho visto c'è anche questa immagine qui molto carina tutti i libri hanno questo colorito di pagine un po' ingiallito e presentano delle foto all'interno ecco tipo questa che è la particolarità della serie oh non lo voglio aprire perché mi sembra un po' delicata la costina comunque sì questi tre libri mi sono stati inviati dalla Team World per promuovere il film in uscita di Miss Peregrine che è anche diretto da uno dei miei director penso preferiti quindi i registi preferiti ecco mi vedi il termine quindi Tim Burton e io sicuramente lo andrò a vedere al cinema mi hanno chiesto di recensire almeno il primo volume penso che lo farò molto presto anche perché comunque è il mese adatto in realtà avevo già letto questo libro semplicemente c'è un aspetto che io non sono proprio riuscita ad accettare di questa storia per cui ho dato soltanto a Teresa in linea in realtà il libro a me è piaciuto il resto della storia non vedo l'ora di rileggerlo per farvi una nuova opinione perché comunque l'ho letto l'anno scorso magari le mie idee sono leggermente cambiate però vi dico che tranne per quell'elemento per me la storia era molto valida e da quello che ho visto nel film questa cosa è un po' diversa quindi apprezzo ancora di più il lavoro che ha fatto Tim Burton e sì non vedo l'ora di metterla in libreria perché sono veramente bellissime edizioni molto curate e book porn quindi sì questo era il mio piccolo unboxing spero vi sia piaciuto presto ci sarà la recensione della casa per ragazzi speciali di Miss Periglin sul canale se l'avete letto fatemi sapere qui sotto che cosa ne avete pensato nei commenti perché sono pronta alla discussione aperta con voi come sempre giù nell'info box trovate i link cliccabili da Amazon dove potete acquistare questi tre fantastici libri e in più tutti i link ai miei altri social network il video finisce qui spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi